Villa Prata Simonetta, Caponago Alla villa, in stile rococò, con una semplice pianta rettangolare, si accede attraverso un piccolo giardino. Al centro della facciata, un portico a tre archi, con colonne in serizzo, sormontate da due lesene e tre finestre. Dal portico si passa allo scalone, caratterizzato da una balaustra in pietra, con un motivo floreale tipico del rococò lombardo. Anche le elaborate cornici delle finestre e delle porte finestre, con orecchie allungate e un timpano centrale, sono in stile rococò. Costruita agli inizi del Settecento per i conti Prata, la villa è ora sede del municipio di Caponago.